E' entrato in campo Spartania New Generation In questo match valevole, torneo Super 5 Albito della gara Sandro Sanziano Ecco le due squadre che arrivano al centro del campo Per i saluti di dito Spartani Magliascura In Casacca Rossa A tra poco per la sintesi della gara 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.